L'alta pressione Nerone è in procinto di scaldare l'Italia. Le condizioni meteorologiche per oggi e domani prevedono un aumento delle temperature dell'AFA che si intensificheranno nel corso del fine settimana, compreso il giorno di ferragosto. Antonio Sanò, il fondatore del sito www.ilmeteo.it, conferma il ritorno dell'aria calda di provenienza africana sul nostro territorio, che avverrà in due fasi. Prima interesserà il centro-nord e successivamente, a partire dalla metà della prossima settimana, raggiungerà anche il sud. L'aria di alta pressione di origine africana nelle giornate recenti è rimasta stabile sulla Spagna, portando a temperature massime record che hanno raggiunto addirittura i 46,8 gradi a Valencia e in Andalusia. Attualmente sta estendendo la sua influenza verso il centro e il nord Italia e nel fine settimana ci aspettiamo temperature di 35 gradi a Bolzano e Firenze, 34 gradi a Ferrara, Pavia e Terni, con un aumento a 33 gradi a Bologna e Roma. Le temperature elevate previste per questo fine settimana non raggiungeranno i livelli stratosferici registrati a luglio, 48 gradi in Sardegna, il 24 del mese, ma saranno accompagnate da un maggiore tasso di umidità. Questa combinazione di calore e umidità darà luogo a condizioni di stress biometeorologico significativo.